Ciao a tutti sono Giuseppe Tortorella e in questo video vi voglio mostrare delle catture in acqua bassa, ma veramente bassa. Sto partendo con una profondità diciamo il primo che era un barracuda sarà stato un metro, un metro e mezzo e man mano che vedrete i video l'acqua diventerà talmente bassa, ma talmente bassa che forse dopo ci saranno sì e no, ma voglio dire 20 centimetri di acqua. In quest'altra cattura sto in mare molto agitato, si vedono le alghe che vengono sbattute a destra e a sinistra, passa un cefalo da molto lontano e con un po' di difficoltà, perché comunque l'acqua mi sballottolava un po' da tutte le parti, prendo un cefalo. Allora molti dicono che la pesca, questo tipo di pesca si può fare quando il mare è agitato si prendono più pesci, questo è vero, però anche con mare calmo e anzi tutti gli amici miei dicono il mare è calmo, l'acqua è limpida, che vogliamo prendere a terra, non prenderemo mai niente e invece non è vero. Quindi a tutti i pescatori di acqua profonda, tutti quelli che vanno a sgancio, quelli che vanno a 30 metri. Questo è secondo me il tipo di pesca più tecnica, più difficile, più divertente, è proprio bello pescare in poca acqua, è bellissimo, quindi anzi io sono un amante dell'acqua bassa e poi tra l'altro, tra l'altro la stragrande maggioranza dei pescatori pesca in acqua bassa e di solito si pesca con un fucile corto, io adesso sto pescando con un 100 che poi in effetti è un 105 e che vi devo dire, le catture si fanno con estrema facilità se hai un fucile che tira abbastanza lungo, perché con l'acqua chiara ovviamente i pesci non è che si avvicinano tantissimo o sempre si avvicinano e quindi praticamente io mi trovo molto molto bene e l'importante è avere un assetto incredibile. A proposito, iscrivervi al canale non costa niente, a me serve per farne fare altri video, perché sono riuscito ad arrivare a un certo numero di visualizzazione e quindi youtube mi sponsorizzerà un po' e niente, quindi iscrivetevi e mettetevi anche un mi piace. In questo caso sto su una barriera, anch'essa molto molto bassa, sto alla cattura di cefali, o cefali o spigole, perché poi in effetti in acqua bassa io ho catture di tutti i tipi, da pesci grandi a pesci piccoli, in poca acqua, perché in poca acqua si può prendere un po' di tutto, in questo caso ho voluto mettere solamente dei cefali, un barracuda all'inizio e delle spigole, poi nei prossimi video metterò anche altri pesci in pochissima acqua. Qua sto sparando se non sbaglio un cefalo e se vedete corrono come i pazzi, corrono a velocità incredibile, perché non so se perché mi avevano visto ma non penso, comunque poi alla fine riesco comunque a realizzare un tiro, vedete questa è a velocità normale eppure correvano tantissimo, se guardate i buchi dei pesci sono tutti quanti al centro, non perché ho selezionato i video, proprio perché se colpisco il pesce è difficile che lo colpisco più sopra o più sotto, al 90%, anzi al 99% è sempre più normale all'altezza della spina, vedete sto scendendo sempre di più di acqua, adesso quanto ce ne sarà, ci sarà mezzo metro di acqua, eppure i prossimi video saranno ancora più bassi, vanno i prossimi video, le prossime immagini, adesso non mi ricordo, forse sto prendendo sì una una spicola, l'importante è muoversi lentamente, perché poi bisogna anche dire un po' dei segreti della pesca subacquea, la velocità in cui ti muovi nell'acqua è fondamentale, velocità e assetto, perché non devi avere una piombatura troppo eccessiva, perché sennò tendi a stare troppo attaccato sul fondo, mentre se ne hai troppo pochi tendi ad andare verso l'alto, è neanche buono, ogni profondità ha bisogno della sua piombatura, non posso andare a un metro d'acqua e andare a 5 metri d'acqua, perché a 5 metri d'acqua mi affogherei, e quindi vedete queste per esempio, guardate queste catture, sto camminando nelle alghe, guardate l'acqua quant'è, sarà 30 cm, ma forse anche meno, non lo so, nella prossima, se non mi sbaglio stanco, è ancora più basso, l'acqua limpidissima, ovviamente bisogna stare sotto al pelo dell'acqua, io non sto camminando in superficie, sto camminando sotto, quindi è difficilissimo camminare a questa profondità, guardate questa, questa è secondo me è una cattura spettacolare, l'acqua è limpida, il tempo era eccezionale, guardate che acqua, secondo me è proprio bella da vedere, e adesso prendo anche un'altra bella spigola, a distanze tra l'altro molto elevate, perché insomma riesco ad avvicinarmi, ma fino a un certo punto, però grazie al fucile che è lungo, riesco anche a prenderli, e niente, io spero che questi visi ovviamente vi piacciono, perché io mi impegno a farli, e ci vuole anche abbastanza tempo, perché a parte fare le riprese, che è anche scomodo, perché deve avere una telecamera, la tengo in questo caso sulla fronte, ed è una maschera insomma non comoda da portare, in più ci vuole del tempo per montarli, quindi io spero che voi li possiate apprezzare, quest'altra è sempre una bella spigola, pesci di sempre più o meno da un chilo, un chilo e due, un chilo e mezzo, e poi metterò anche delle catture di spigole più grandi, e vedete queste qua, è talmente basso che praticamente ho difficoltà proprio a stare sotto, e penso che questa è l'ultima cattura forse della serie.